Gran bel carrozza sulla sinistra, mette il pallone sul secondo palo, arriva Tripoli, gol del 2-1. Per Tripoli l'anticipo di Bianco, il pallone però è buono per Tripoli. Punta un avversario, entra in area di rigore, in mezzo c'è Cellini! Cellini! Per Zecchine la palla dentro, per Tripoli, area di rigore Tripoli, Tripoli fino in fondo! Tripoli! Il raddoppio di... Questa volta trova, sull'uscita di Bressan, il varco per mettere dentro il pallone del 2-0. Pietro...